Ma guardi, noi le preoccupazioni le condividiamo nella misura in cui non prendiamo nulla sotto gamba. Sin dall'inizio non avremmo altrimenti adottato le misure di estremo rigore come il divieto dei traffici da e per la Cina, non avremmo effettuato forse a questo punto migliaia di controlli per quanto riguarda i termoscanner agli aeroporti e agli altri punti di ingresso dei valichi, come pure non avremmo effettuato tante migliaia di prove tamponi, quindi voglio dire la preoccupazione l'abbiamo sempre avuta e abbiamo sempre risposto in modo però, come dire, non sottovalutando il fenomeno in modo molto efficace sul piano operativo o comunque con la massima determinazione. Ovviamente non possiamo prevedere l'andamento del virus, è chiaro che c'è stato un focolaio e di lì si è diffusa, ormai è noto, anche c'è stata una gestione a livello di una struttura ospedaliera non del tutto propria, secondo protocolli, quelli prudenti che si raccomandano in questi casi e questo sicuramente ha contribuito alla diffusione.